Sblocca Italia che si allarga a macchia d'olio, o meglio a macchia di petrolio. La battaglia degli ambientalisti prosegue e prosegue alla luce delle rilevazioni delle aree di interesse che coinvolgerebbero l'Abruzzo. Si stima che solo a largo delle coste tra Teramo e Pescara l'area di interesse copra la grandezza dell'intero Molise. E invece nell'entroterra la superficie delle aree di trivellazione sarebbe superiore a quella coperta dai parchi. Un terzo, anzi più di un terzo della regione Abruzzo è stata data in concessione alle aziende petrolifere e sul mare una superficie grande come il Molise di fronte alle nostre coste. Preghende non è più la regione dei parchi, la superficie dei parchi è più piccola di quella delle concessioni. Questo è inaccettabile secondo noi, ne va della nostra economia, anche ConfCommercio, ConfEsercenti si stanno opponendo e le cantine sociali. Noi chiediamo ai cittadini di mobilitarsi contro questo decreto. Come si può fare? Il 15 mercoledì prossimo andremo a Roma per un presidio davanti alla Camera. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, a chiedere agli amici che ci hanno a Roma, studenti che stanno a Roma, di venire la mattina dalle 10 alle 14 davanti alla Camera. Ci sono tre pullman che facciamo da Lanciano, da Pescara e nel Terramano, San Benedetto, Costa, andando a Teramo, per portare i cittadini che vogliono venire con noi al presidio. Ricordo l'email a cui ci si può scrivere. NoSbloccaItalia, chioccioagmail.com oppure su Facebook, è facile trovare l'evento Facebook. Aria di interesse strategico, dice il decreto. Si chiede il movimento ambientalista se il petrolio, che devasterebbe coltivazioni e risorse tipiche d'Abruzzo, possa essere considerato più strategico delle peculiarità tipiche di una regione che da queste trae turismo e lavoro. Al paradosso che la nostra economia, quella più fiorente, quella che si sta sviluppando ancora, quella del vino, dell'olio, del nostro paesaggio, del turismo, non viene considerata interesse strategico, lo sono i pozzi petroliferi di poche aziende multinazionali. C'è un'idea anche di economia diversa rispetto a quello che noi proponiamo. L'economia diffusa, appunto, di queste realtà, anche delle energie rinnovabili, in contrappossessione all'economia di pochi, in cui pochi fanno i profitti e li portano all'estero le multinazionali del petrolio.